Il mio nome è Kubo. Soprattutto vado a mia madre. Com'era mio padre? Era come te. Forte e bellissima! Oh, madre! Uso la magia per le mie storie. Se vi dovete distrarre, fatelo ora! Narro di epiche battaglie, di guerrieri e mostri. Ma non avevo idea che le mie storie fossero vere. Kubo. Ti stavamo cercando da tanto. Madre! Kubo, trova l'armatura di tuo padre. È la tua unica speranza. Madre! Kubo! Chi sei tu? La tua famiglia è molto potente. Tua madre ha usato la magia per salvare te e dare a me la vita. Sono qui per proteggerti, Kubo. E quindi devi fare come ti dico. Non scherzare con la scimmia. Hai mai visto questo stemma? Certo. Questo è un miracolo. Ho trovato il figlio del mio maestro! La tua ricerca da ora è anche la mia ricerca. Non sappiamo niente di te! Scagliare una freccia non è che sia una cosa... notevole. È la prima volta che lo faccio. La tua magia sta diventando forte. Devi imparare il controllo. Non toccate niente. È stato lui. Lo sistemo io. Non lo sistemo io. Reclama il tuo diritto di nascita, Kubo. Da questa storia un lieto fine. Ti serve una mano? No, no, no. Sì. Curiosità per i fan dei film Disney. Allora, voi lo sapevate che i nomi dei personaggi di Frozen vengono dal nome dell'autore della storia originale? Sono Hans, Christoph, Anna e Sven. Vengono da Hans, Christian, Andersen. E invece Wall-E viene dal nome di Walt Disney, Walter Elias Disney. Lo sapevate? Sapevatelo. E cliccate qui accanto per rimanere con me. Prostissimo. Ciao!